In cinque giorni abbiamo aggiudicato un'offerta scegliendo il criterio del prezzo più basso, che è il criterio più oggettivo rispetto al quale nessuno di noi ha avuto nessun margine di discrezionalità nel mettere punteggi, nel scegliere il progetto migliore, nel valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa o altre formule che prevedono assegnazioni di punteggi e comunque una valutazione quantomeno discrezionale da parte di chi fa parte della Commissione. Il Codice prevede che nell'ipotesi di offerte che possono apparire a normalmente basse è possibile, sottolineo, è possibile, non c'è scritto è obbligatorio, c'è scritto è possibile, nella legge, chiedere spiegazioni sul prezzo o sui costi prodotti. In tal caso le dette spiegazioni possono, ripeto il verbo possono, in particolare, essere relativa all'economia del processo di fabbricazione, alle soluzioni tecniche prescelte, insomma devi spiegare e convincere la Commissione del perché riesci a fare un prezzo così basso mantenendo ovviamente la qualità dell'offerta. La Commissione, il RUP, ha giudicato congrue le motivazioni del ribasso dell'impresa, tra le quali il fatto che quell'impresa già lavora dentro l'ospedale di Pescara, ottimizza una parte del personale, della logistica e così via, che non ha intenzione, così dichiara, di fare margini di guadagno su questa impresa, credo anche il secondo, con un ribasso così importante, testimonia una volontà da parte di importanti imprese abruzzese di mettersi a disposizione della comunità e di fare magari un'opera prestigiosa che ha anche un alto valore sociale e senza particolare lucro, senza nessun lucro per la propria azienda, che non siano gli stipendi dei loro operai, dei loro tecnici, dei loro dirigenti che lavorano. Quindi a noi stanno bene queste giustificazioni, il cantiere sta lavorando, con decine e decine di operai H24 sul cantiere e nei prossimi giorni comunicheremo ufficialmente la data della consegna del primo lotto, che non avverrà fra 90 giorni, ma fra meno ad oggi ormai, meno di 20 giorni. A chi tenta di gettare fango e fare illazioni sulla onestà, sulla trasparenza e sulle modalità con le quali noi abbiamo affidato questo incarico e questa opera, ripeto l'avviso, si sciacqui la bocca, faccia bene attenzione a quello che dice, perché quello che stiamo leggendo è già al vaglio dei nostri uffici legali, perché non tollereremo cadute di questo livello, polemiche di basso livello. Regioni, riapre chi ha i requisiti, quali sono i requisiti? Priorità alle aree con contagio basso e ospedali Covid. Però il modello generale non è Fiera di Milano, c'è strutture lontane dagli ospedali dove devi riattrezzare tutto. E' un altro modello, quello di strutture adiacenti, collegate, funzionali agli ospedali. Senza il reparto Covid che stiamo organizzando e costruendo adesso all'ospedale di Pescara, l'ospedale di Pescara non potrebbe riaprire e chi ha problemi cardiaci, chi deve fare un intervento chirurgico, chi si deve togliere un'ernia, chi deve fare un intervento al disco, alla colonna vertebrale, non li fa. Adesso non li fa, se ne sta a casa con i dolori. Per questo dobbiamo liberare gli ospedali.